Allora, buongiorno, cerchiamo di essere veloci, ho tante slide ma andrò veloce. Mi interessa farvi vedere questo lavoro che fa parte del partenariato esteso diretto dal professor Volpe di una ricerca che si chiama Itinerari del Sacro e dove io sono co-PI per il mio dipartimento con questo progetto che si chiama Antiche e nuove percorrenze tra Roma, Tivoli e Subiaco. Il gruppo di ricerca è articolato e in realtà abbiamo una serie di ricerche che abbiamo attivato con Tivoli e con queste zone da parte dei miei colleghi e abbiamo lavorato anche su queste tematiche sia nel laboratorio di sintesi finale del quinto anno sia nel Master Architecture Landscape Archeology. In realtà molti dei ragazzi, dei giovani che stanno nel gruppo di ricerca stanno anche, insegnano ma per non fare un appesamentimento di tanti nomi che si ripetevano l'ho fatto così più semplice. Credo che sia interessante per voi questo ragionamento soprattutto alla luce del progetto che facevate ieri su Agrigento e comunque in generale rispetto alle cose di cui parlava anche il professor Volpe ieri e quindi questa visione di questa visione olistica, la parola olistica che gli piaceva molto e che piace molto anche a me, per vedere una serie di questioni contemporaneamente. Parliamo in sostanza di un'area che è lungo il bacino dell'Aniene e che è un bacino che collega, come sapete l'Aniene sfocia nel Tevere, quindi diciamo è un'area molto interessante che va a est di Roma e che arriva fino a Tivoli, subiaco e fino appunto alla sorgente dell'Aniene e lungo questo itinerario che come vedremo tra un attimo è parallelo a quello della via Tiburtina Ci sono moltissime potenzialità di valorizzazione del paesaggio e del territorio e la potenzialità di creare quello che io ho chiamato una greenway a est di Roma quindi un sistema che metta insieme la valorizzazione del territorio nelle sue varie sfaccettature con la mobilità sostenibile, quindi diciamo treni, biciclette e con una serie di operazioni che possono valorizzare l'area. La cosa interessante è che le cave di travertino, il travertino romano è praticamente unico al mondo, si forma in questa zona dove c'è il bacino delle acque albule proprio per la composizione chimica dell'acqua, è un bacino piuttosto esteso ed è una zona di cave dall'epoca romana, ancora molto attiva oggi e qua si vede bene il rapporto diciamo tra l'area geologica, la condizione geologica con la zona diciamo delle cave di travertino tutto attorno ciò che è in arancione, Tufo e il punto dove sta a Tivoli e qua inizia l'area metropolitana di Roma è che in una mappa di Google Map vi mostra già in questa immagine l'estensione del sistema delle cave rispetto a Tivoli e alla città di Roma e anche vi voglio raccontare un attimo, questo è importante rispetto diciamo ai ragionamenti che secondo me dobbiamo fare in questo dottorato anche la condizione paesaggistica che è completamente diversa tra il fronte degli appennini che crea una condizione diametralmente diversa tra la piana dell'agroromano quindi sulla zona a ovest dove corre l'Aniene, corre la via Tiburtina che prima si chiama Tiburtina e poi Tiburtina a Valeria e arriva fino a Pescara e questo è l'andamento del fiume Aniene fino alla foce a Filettino e questo è l'andamento della via Tiburtina che ovviamente Tiburtina e Aniene in passato erano strettamente legati proprio anche per il trasporto del travertino a Roma e come sapete Roma è di travertino questa condizione appunto la presenza dell'appennino crea proprio questi due paesaggi completamente diversi da un lato tra l'altro diciamo la Tiburtina Valeria era anche diciamo un tratturo che serviva diciamo per la transumanza diciamo tra tra l'appennino e l'agroromano e questa diciamo storia della transumanza ovviamente ha a che fare con il sistema anche dei monumenti e delle rimanenze storiche che ci sono in questo territorio perché questo rapporto appunto tra Roma, Tivoli, Alba Fucens lungo la via Tiburtina si conclude diciamo nel foro Boario a Roma attraversa l'area delle acque Albul e quindi là dove si formano appunto i travertini passa attraverso il tempio di Ercole Vincitore sotto al quale attraversa appunto la via Tiburtina e arriva poi fino a Alba Fucens lungo questo sistema quindi vedete che questa connessione a Est che può essere un'ipotesi contemporanea di valorizzazione di questo territorio è già un sistema che esisteva fin dall'epoca romana un sistema che lungo il fiume Agnene incontra tre ponti principali in particolare il ponte Mammolo a Roma e il ponte Lucano che sta proprio nell'area di Tiboli in Bagni accanto al quale c'è questo mausoleo dei Plauzzi che è un mausoleo molto interessante, molto bello sul genere di quello di Cecilia Metella per Latvia. Lungo questo sistema tra l'altro corre anche il sistema degli acquedotti quindi diciamo l'importanza dell'acqua in questo territorio di cui parlavano ieri i ragazzi per esempio rispetto ad Agrigento quindi ragionamenti che devono poi secondo me anche un po' concretizzarsi con delle mappe sintetiche e con un modo di parlare di queste cose dove si possano vedere queste relazioni quindi il sistema di questi quattro acquedotti Agnene Nuovo, Acquamarcia, Agnene Vecchio, Acquaclaudia che per un tratto proprio sono paralleli al sistema Tiburtina-Agnene poi dopo diciamo curvano e finiscono tutti nella zona di Porta Maggiore quindi proprio in prossimità della zona di Tivoli c'è questo diciamo questo gomito che si forma lungo questo stesso sistema corrono oggi l'autostrada 24 e la linea ferroviaria e quello che accade è che questo sistema diciamo montuoso degli appennini proprio trova in Tivoli una faccia, una sorta di balcone sulla Valle del Tevere quindi la posizione strategica di Tivoli sia rispetto diciamo alla Piana di Roma tanto nel passato quanto oggi con la città metropolitana è particolarmente interessante e a questa diciamo condizione strategica non corrisponde in realtà una valorizzazione della città che invece è semplicemente diciamo utilizzata come un jukebox con Villa Adriana e Villa d'Este che sono gli unici due monumenti che la gente va a visitare però diciamo la condizione ecco qua di questa città di Tivoli che sta sul margine montuoso questa è la Valle del Tevere, qua giù si vedono le cave e la zona di Roma metropolitana e che quindi diciamo è proprio al limite tra il paesaggio degli appennini e il paesaggio della Piana Romana con una città che si diciamo conforma morfologicamente alla condizione geografica e che ha un tema molto importante su tutto questo diciamo margine della città che si affaccia sulla Niene e che come vedremo tra poco nell'antichità è stata diciamo anche oggetto di ammirazione durante il Grand Tour eccetera il paesaggio della Niene e della via di Burtina è in realtà oggi un paesaggio in prossimità di Roma altamente antico e il paesaggio diciamo produttivo della cave e delle cave di Travertino è vastissimo è molto impattante sia diciamo da un punto di vista paesaggistico che come area vedete in questa parte noi abbiamo lavorato soprattutto in questa zona qui che si chiama la Cava del Barco che è quella diciamo in prossimità del fiume Aniene ed è il luogo dove sono iniziate le cave in epoca romana però ovviamente il tema investe tutta la zona di Tivoli e Bagni vi faccio brevemente vedere la diversità del paesaggio invece dall'altra parte della Niene verso Suddeaco che è un paesaggio appunto prevalentemente montuoso la valle tra Tivoli e Roviano e poi il paesaggio tra Roviano e Suddeaco è una condizione completamente diversa rispetto a quello dell'area metropolitana e anche da un punto di vista insediativo ci sono questi paesi che sono arroccati sulle colline e c'è tra l'altro il cammino di San Benedetto questo fa parte anche all'interno del nostro PNRR di uno studio di un gruppo però appunto diciamo la condizione insediativa è completamente diversa ci sono questi conventi, questi eremi che stanno sempre però su questo sistema dei monti e quindi con questi affacci, belvederi, temi molto interessanti il centro di Tivoli è in realtà una città molto ricca di resti archeologici non per niente diciamo valorizzati questa è una mappa che mostra la sovrapposizione della Tivoli odierna con i resti archeologici questo è il resto del Tempio di Vercole Vincitore su quale abbiamo lavorato con il Master questa è la Valle della Niene e questo diciamo sistema è il sistema altamente rappresentato nella diciamo iconografia classica dai pittori del Grand Tour con questo sistema appunto della cascata che c'è a Tivoli che è anche fonte della sua diciamo ricchezza produttiva e quindi la presenza di cartiere e la presenza e la produzione dell'energia elettrica perché a Tivoli per la prima volta c'è stata una linea di energia elettrica che collegava Tivoli con Roma con questa diciamo costruttura energia idroelettrica ovviamente queste sempre appunto rappresentazioni di questo paesaggio della vista di Tivoli con le cascate con la Niene e il Tempio appunto di Ercole Vincitore che era proprio quello rappresentato qui in questa immagine che sta proprio sul margine di Tivoli con la via Tiburtina che gli passa sotto di questo Tempio oggigiorno rimane questo sistema di terrazze del santuario che costituisce un importante affaccio sempre da un punto di vista paesaggistico e questo tema delle terrazze ovviamente è un tema architettonico molto sviluppato in tutta la zona non solo diciamo appunto nel Tempio di Ercole Vincitore ma per esempio questo è il terrazzamento del Tempio di Sibilla che lo rende proprio dominante sulla Valle della Niene sempre nelle rappresentazioni dei primi del XVII secolo ma è un tema che ritroviamo in tutta l'architettura romana nelle ville romane che sono abbondanti non c'è soltanto Villa Adriana nella zona ma anche per esempio in tutto il sistema dei terrazzamenti appunto del pescile di Villa Adriana questa è la villa di Brut come vedete sia nei resti archeologici che in questa rappresentazione questo tema delle terrazze è come su terrazzamenti è costruita la villa d'este a Tivoli e questo tema comunque del rapporto quindi paesaggistico da un lato e invece produttivo dall'altro con l'acqua ha fatto sì che lungo tutto questo margine siano state costruite tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento tutta una serie di cartiere che sfruttavano l'energia idroelettrica per funzionare e questo sistema delle cartiere che sta vicino quindi al tempio di Ercole vincitore esso stesso diventato cartiera a un certo punto e quindi diciamo adesso vi faccio vedere un'interessante commissione potrebbe costituire un interessante itinerario che dalle parti basse potrebbe riqualificare il territorio di Tivoli questa è un'immagine delle cartiere negli anni 30 e questa è un'immagine del tempio di Ercole vincitore trasformato in cartiera per cui c'è questa mescolanza di una archeologia romana e un'archeologia industriale all'interno dello stesso tempio queste sono le cartiere oggi altro tema è quello appunto delle acque albule questi sono tutti diciamo le sorgenti da cui sgorga quest'acqua che formano dei laghetti e anche un canale che alimenta ovviamente bagni di Tivoli e che costituendo diciamo la zona termale già conosciuta in epoca romana già utilizzata in epoca romana ancora oggi attiva questi sono questi laghetti delle acque albule che hanno questo particolare colore proprio per l'acidità dell'acqua questi sono i resti delle terme di Agrippa quindi che sfruttavano le acque sulfure e appunto immagini di questi laghetti in disegni dell'Ottocento il colore particolare dell'acqua della Niene è proprio dovuta allo sversamento dell'acqua e la valorizzazione diciamo del sistema delle acque termali che da tempo poi questo paesaggio delle cave rappresentato anche sempre dagli artisti sia le zone delle cave del barco anche più avanti le cave di Salone e come vi dicevo un sistema che è stato altamente utilizzato in epoca romana e rappresentato anche sulle cartografie questa è la mappa di Ocfosino della Volpaia e questa è la zona della cava del barco con la Tiburtina il ponte Lucano il mausoleo dei Plauzzi e tutta la zona di cui stiamo parlando questa è una situazione della zona delle cave ancora all'epoca diciamo del Lancianni che quindi vedete ancora praticamente ribatteva la zona romana questo è un po' rappresentato all'incontrario questo è la Niene e questa è la zona delle cave e questa è la Tiburtina però praticamente dagli anni 30 in poi invece si è fatto un grande uso di questo sistema diciamo del trabertino queste sono delle immagini per la costruzione delle cave e anche della costruzione della fontana di Piazza del Viminale e in realtà la situazione però già in questa mappa di Zaccaria Mari si comincia a vedere il rapporto tra la zona delle cave e tutte le zone interessanti da un punto di vista anche storico e paesaggistica che sono nei dintorni quindi i vari sepolcri, gli acquedotti, le terme di Agrippa il canale, la via di Purtina eccetera con dei casali meravigliosi come questi due il casale cosiddetto Bernini e il casale del barco il casale Bernini sembra dove alloggiasse Bernini quando andava a farsi tagliare i travertini per le sue opere che sono ormai diciamo al limite di questo cioè gli hanno scavato il travertino fino a sotto al casale medesimo però sono due casali abbandonati ma bellissimi che varrebbe la pena recuperare e appunto il ponte Lucano con il mausoleo dei Plauzzi nell'iconografia è come oggi e il sistema delle cave ecco queste cave nascono tra l'incrocio tra diciamo il comune di Montecelio e il comune di Tivoli sono proprio in questo margine qui e questa diciamo è tutta la zona delle cave e questa è l'evoluzione del sistema delle cave negli ultimi 50 anni quindi diciamo 70 anni questo era ancora questa era la cava del barco questo era il sistema insediativo quindi in grigio c'è il sistema insediativo questo è già come diventa nel 1980 e questo è come siamo oggi nel 2019 questo è il rapporto tra il bacino estrattivo del travertino e la zona che è stata estratta e quindi diciamo stiamo già a un 20% della disponibilità per una profondità di 40 metri in realtà il bacino è 60 in totale e questo diciamo è il buco che ha prodotto il sistema delle cave attorno al quale ovviamente si è costituita una città del tutto casuale e disordinata senza diciamo progettazione urbanistica e diciamo che vive semplicemente del rapporto con le cave un paesaggio appunto abbastanza devastato anche se poi invece presenta anche diciamo condizioni di un certo fascino dentro al sistema delle cave ci sono tantissimi di questi laghetti che sono appunto l'acqua che affiora e c'è una condizione particolare che si è andata formando per via di questa acidità delle acque che ha prodotto una vegetazione unica per cui hanno creato in questa zona del barco una zona SIC di protezione di biodiversità proprio per la presenza di queste condizioni uniche di cui vi mostro qua qualche immagine qualche disegno di queste diciamo licheni, alghe quindi diciamo anche io mi sono abbastanza posta il tema ma sono una zona di protezione ma che ci facciamo esattamente perché la dovresti come dire tenere così com'è ma cosa provoca questo? ovviamente che sta diventando una discarica perché chi ha la proprietà delle terre non vuole che questa sia una zona tutelata e protetta e quindi diciamo questa è tutta una flora associata all'ambiente del travertino questa è la zona SIC che è stata fatta per la protezione di questo ambiente particolare e queste sono invece delle immagini di come appare quindi diciamo un po' sono delle cose molto minute molto fragili quindi anche in un certo senso l'altra cosa interessante è questo montarozzo del barco che in realtà è come una vera e propria monte testaccio nel senso che è una zona una collina antropogenica di età romana che è stata formata con gli scarti della lavorazione del travertino e grazie a questo fatto anch'essa è ricca non so quante specie 260 specie sono nate su questa collinetta ci sono anche delle problematiche negative come per esempio fenomeni di subsidenza quindi di terreno che a causa di questi scavi affonda e si formano le doline che sono i sinkhole sono proprio dei buchi che si creano delle faglie nel terreno a causa di questa forte attività estrattiva e questo per esempio mostra appunto l'abbassamento della falda acquifera però al tempo stesso la presenza di questa diciamo biodiversità attorno a questi sinkhole quindi diciamo una questione un po' paradossale cioè un'area da riqualificare perché parte di un sistema più ampio che connette Roma e può diventare un sistema analogo a quello dell'Apia verso sud o al parco di Veio verso nord un'area che però è molto fragile da un punto di vista geologico urbanisticamente devastata con una straordinaria presenza storico-archeologica una certa ricchezza naturalistica perché adesso non vi ho parlato anche della Niene perché insomma sarebbe troppo lungo però che appunto richiede tutela conservazione e però anche la necessità di trovare un equilibrio tra diciamo le attività produttive perché non è che possiamo immaginare di fare di tutte le cave soltanto un parco quindi questa è un'immagine che mi mostra adesso velocemente sono andata un po' lunga scusatemi il paesaggio est di Roma quindi diciamo questi sono immagini di Roma e di là c'è Tivoli quindi questa idea di una greenway che parte tra l'autostrada Roma-Laco la Prenestina di qua c'è invece la Tiburtina però il fiume Aniene che fa così e questo diciamo l'abbiamo un po' iniziato a studiare con gli studenti nei laboratori quindi a partire dal parco della Serenissima potrebbe partire questo sistema diciamo di valorizzazione fino a Tivoli e su Biaco questi sono immagini degli studenti che lavorano un po' su questo tema delle riconnessioni questo è tutto un elenco di interessanti che sono storiche che sono lungo la valle della Niene e anche di tutto il tema diciamo dei terrazzamenti dei belvedere quindi su cui si potrebbe lavorare questi sono poi invece degli schemi che hanno a che fare con la zona specifica di Tivoli quindi questa è Villa Adriana questa è la Tiburtina nuova quella in rosso è la Tiburtina vecchia che passa e tra l'altro ci potrebbe essere anche tutto un tema di riconnessione trasversale che qua ci sono il casale Bernini il casale del barco la zona delle terme di Agrippa diciamo a ragionare anche sul non vi ho parlato diciamo di questo paesaggio urbano che è privo totalmente di piazze di luoghi di incontro quindi diciamo l'idea di lavorare su queste cose sarebbe anche per valorizzare da un punto di vista urbanistico la zona stessa e quindi stiamo facendo una serie di esperimenti questo per esempio il professor Luca Reale con una tesi con questa ragazza Giulia Persichetti questi sono dei disegni che hanno fatto i miei studenti dove appunto questa è la zona dell'habitat della flora dei travertini il paesaggio lungo il fiume Aniene la zona delle cave del barco i laghetti le connessioni col centro urbano e senza entrare adesso nel merito noi abbiamo lavorato in particolare con l'idea di lavorare sulla zona protetta del SIC che poi anche quella che ha un po' quasi esaurito la possibilità produttiva e quella protetta e quindi con l'ipotesi che questa possa diventare una zona a parco in qualche modo da valorizzare questi sono schemi degli studenti vari alcuni di questi in modo interessante connettono per esempio col sistema delle acque albule quindi facendo anche un lavoro trasversale e con questa che si chiama la via dei fili che praticamente percorre una conduttura della CEA che attraversa come un ponte le zone delle cave dove vogliono fare una pista ciclabile quindi anche questo sistema potrebbe essere diciamo parte di questo circuito di valorizzazione delle aree di creazione di alcuni spazi pubblici anche questa è la via dei fili che è qui e quindi diciamo tutto un tema di connettere collegare il basso con l'alto il trasversale adesso non entro nel merito perché insomma vi ho preso abbastanza tempo ma questi sono alcuni schemi che anche mostrano le connessioni per esempio con la zona di Villa Adriana che è completamente isolata rispetto a questo sistema e la possibilità di creare una serie di piazze urbane di riqualificazione diciamo del tessuto esistente e ho finito esistente Grazie.